Buongiorno, bentrovati al nuovo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa parte subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Allora andiamo sul centro, questa è la prima dell'edizione di Pescara, Fabrizia è morta. Il titolo di apertura la conferma arrivata dal ministro Alfano Cordoglio in Italia, fiaccolata a Sulmona. E' proprio della fiaccolata, vedete una fotografia a centropagina, oltre 2000 persone. Si sono riunite ieri sera nella città Pelinia per commemorare la morte di Fabrizia Di Lorenzo. Testamento su Twitter, ci restano i dinosauri, addio alla meglio gioventù e l'articolo di Domenico Ranieri. E poi il riconoscimento, l'esame del DNA cancella tutti i dubbi. Il presidente Mattarella ha detto vittima della violenza e del terrore. E dunque questo per quanto riguarda la notizia principale di ieri, purtroppo bisogna dire una notizia attesa, perché insomma i segnali che arrivavano dalla Germania non lasciavano presagire nulla di positivo. E poi sotto la fotografia, patto per rilanciare l'artigianato, alleanza, imprese, sindacati, ecco le 10 cose che la Regione deve fare. Finanziamento dei confidi, legge sulle start-up, apprendistato, formazione, bottega, scuola. Queste alcune delle richieste da parte delle associazioni di categoria e delle parti sociali contenute in un documento comune indirizzato ai vertici della Regione. Poi all'interno, elezioni, sondaggio Demopolis, PD in testa, se si tornasse oggi alle urne per le politiche, il Partito Democratico otterrebbe il 31%, il Movimento 5 Stelle il 28,5% e questa la fotografia scattata a dicembre dall'Istituto. E poi i formigoni, i giudici, corrotto con benefit di lusso. Questo per quanto riguarda i richiami dal nazionale. Poi le notizie dalla provincia, Pescara, i negozianti del centro, troppe multe e affitti alti. E poi Montesilvano furti nelle case, bloccata un'altra banda di ladri. Nel taglio basso a Palermo è finita 1-1, Pescara pari tra i rimpianti. Biraghi riacciuffa il Palermo, Memuschai fallisce il gol vittoria. Un punto per sperare, un segnale di vitalità. Il pareggio del Barbera sta stretto ai Biancazzurri, che tornano a casa con una rete annullata. Annullata a Fornasier sull'1-0, un'occasione di Memuschai sventata da Posavec allo scadere. In mezzo il rigore trasformato da Biraghi, che consente di agganciare il Crotone a quota 9 punti. E poi Pescara, Driceste e Carabinieri fanno festa con i bambini. Dunque questa è la prima pagina del centro nell'edizione di Pescara. Andiamo a vedere le altre edizioni. Questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto. Vedete il titolo di apertura, lo ritroveremo su tutte le prime pagine del centro. L'impostazione della prima pagina è la stessa. Andiamo a vedere le notizie dalla provincia. Moglie e figlia giù dalla 14, il papà rischia il processo. E poi Ortona è deceduta da 23 giorni, niente soldi per i funerali. Nel taglio basso lo stabilimento di Saletti, Honda, nuova moto adatessa, al via la produzione del sesto modello dello scooter SH. E poi Chieti, due pedoni travolti, ecco le strade a rischio. Andiamo sulla prima di Teramo, anche qui stessa impostazione. Dunque andiamo a vedere il focus per le notizie dalla provincia. Un giovane di Campli, violenta e rapina alla vicina di 70 anni, finisce in carcere. E poi licenziata per le assenze, ma il giudice la riassume, accaduto alla Bentel di Corropoli. Nel taglio basso, da gennaio a Almazzini, partorire in acqua sarà, allevierà il dolore. Dunque partorire in acqua senza dolore, due aiuti per alleviare la sofferenza delle donne in travaglio. La doppia novità in arrivo è annunciata dal primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Teramano Anna Marcozzi. Intanto la ASL va avanti con le procedure del maxiconcorso per 56 operatori sociosanitari. I ricorrenti hanno rinunciato alla sospensiva e il Tar deciderà nel merito tra un anno. E poi il calcio di Lega Pro e il Teramo chiede punti salvezza al Lumezzane. La partita si giocherà alle 14.30 al Bonolis. Andiamo a vedere anche la prima pagina di L'Aquila-Vezzano sul Mona. Le notizie dalla provincia Vezzano, furti a raffica nelle case di medici ed avvocati. All'Aquila ha telefonato a minatori al direttore dell'ex Onpi. Poi la ricostruzione. Duomo si sblocca il progetto. Dopo sette anni e mezzo via libera e i lavori da 35 milioni di euro. Ora tocca le imprese chiamate a un super lavoro per tentare di recuperare il tempo perduto. La soprintendenza ha autorizzato l'intervento nel più grande aggregato edilizio del centro storico aquilano che riguarda oltre agli edifici della chiesa anche due palazzi gentilizi per un'estensione complessiva di un ettaro. E sempre all'Aquila, Capodanno con musica e comici nelle piazze. Ovviamente ci si prepara a festeggiare il Capodanno. Cambiamo testata. Adesso passiamo al messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. La notte si illumina per Fabrizia. Il titolo di apertura è dedicato alla fiaccolata di ieri sera a Sulmona. Stragi di Berlino. Il DNA conferma. La ragazza di Sulmona uccisa dal tir. Genitori sotto shock. Ora silenzio. Il cordoglio nazionale. La fiaccolata nella sua città. Il cugino sorella d'Europa. A te l'abbraccio più grande. Andiamo a vedere uno stralcio dell'articolo che trovate a pagina 35. Le luci si sono spente. Quelle di Sulmona e quelle della speranza. Fabrizia Di Lorenzo e il sacrificio dell'Italia all'attentato di Berlino. Lo ha certificato ieri mattina la magistratura tedesca tramite il Ministero degli Affari Esteri. Una notizia che in verità era attesa anche se tutti hanno sperato fino alla fine in una smentita. Uno di quei 12 corpi falcidiati dal tir dei terroristi la sera di lunedì scorso a Breitschplatz ha sentenziato senza ombre di dubbio l'esame del DNA e quello della 32enne sulmonese partita tre anni fa alla volta della capitale tedesca per coronare il sogno di una vita internazionale e di una carriera importante. In quel mercatino di luce e colori Fabrizia si era recata lunedì sera per fare gli ultimi acquisti di Natale in vista del suo ritorno a Sulmona dove l'invia a Rabona con i suoi familiari avrebbe festeggiato sotto l'albero. Invece le luci sono rimaste spente in casa di Lorenzo ma anche in tante abitazioni private nel centro storico di Sulmona dove ieri il sindaco Anna Maria Casini ha ordinato di non accendere le luminari. Al loro posto un corteo spontaneo e silenzioso. E poi sempre dall'aquilano furto nella teca di Celestino V prete indagato l'aquila sparita la medaglia di Paolo VI al suo posto ne è stata collocata una falsa. Ha violato i sigilli della teca papale quella di Celestino V per rubare una medaglia donata da Papa Paolo VI e sostituirla con una copia. Un peccato per cui è stato indagato un giovane sacerdote da anni in città al quale il magistrato ha fatto notificare un avviso di garanzia nel quale è stato ipotizzato il reato di furto aggravato. Pur con tutte le cautele del caso ha comunque dell'incredibile la vicenda portata a galla dal sostituto procuratore David Mancini e dagli agenti della prima sezione della squadra mobile della questura aquilana. Diamo di spalla studentessa giù dalla finestra della scuola solo colpa mia il giallo e giallo su un incidente avvenuto ieri mattina in una scuola media del comprensorio di Celano una ragazzina di 13 anni è volata da una finestra al primo piano e ancora non vengono rese note le cause del grave episodio soccorsa dai sanitari del 118. La 13enne rimasta sempre cosciente è stata portata in codice verde all'ospedale di Avezzano dove si trova ricoverata in osservazione secondo quanto appreso da fonti mediche non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato più di qualche frattura. Nel taglio basso ingegnere ucciso ricercato il fratello delitto di Napoli Chiaia il fratello della vittima unico indagato per la morte di Vittorio Materazzo. L'ingegnere 51enne ucciso con decine di coltellate davanti alla sua abitazione a Napoli lo scorso 28 novembre è irreperibile. La polizia lo cerca in tutta Italia anche a Roccaraso dove la sua famiglia è proprietaria di diverse abitazioni dove suo fratello Vittorio era residente. Sarebbe sparito nel nulla Luca Materazzo 36 anni destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal GIP di Napoli per omicidio aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di consanguinità. Andiamo nel taglio alto adesso. L'Aquila torna a splendere la storica Fontana sarà il faro della ricostruzione e poi Capodanno botti vietati a Pescara Francavilla e Montesilvano. Per la Serie A il Pescara è ancora vivo, pari a Palermo con Biraghila. Il giovane realizza pochi minuti dalla fine sul rigore, annullato un gol regolare a Fornasier, la squadra ha lottato. Andiamo adesso sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura è dedicata ancora a Fabrizia Di Lorenzo, Fabrizia è tra le vittime di Berlino, il DNA non lascia dubbi, cordoglio da tutta Italia per l'Abruzzese, vittima dell'attentato terroristico. Poi a centro pagina, Teramo, i vigili del fuoco consegnano i doni in pediatria, il Natale del cuore. Il titolo sulla fotonotizia sotto la fotografia, due leader nella banda dei bulli, Montorio e i carabinieri sequestrano i cellulari dei ragazzini. E poi nel taglio alto i dati delle analisi pubblicati tre mesi e mezzo dopo, incidente ai laboratori, ecco la prova del 9. E poi dopo il no una città spaccata in due sulla funivia e su questo argomento e non solo c'è l'intervento di Marcello Maranella, funivia e dintorni. Andiamo di spalla con l'atterrato a paura per gli sgomberi di Natale e poi dopo gli sgomberi sciacalli d'arte tra le case di Civitella e Giulianova, verifiche sismiche a rilento sugli asili comunali. Nel taglio basso il calcio di Lega Pro, Teramo, Zauli cerca di attutire la tensione, Lumezzane non sarà decisiva, dice il tecnico del Teramo. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato alla rassegna nazionale e dunque andiamo a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, MPS, la mossa del governo, la crisi delle banche, è previsto nella notte un consiglio dei ministri, Padoan da Gentiloni per il piano, fallisce l'aumento di capitale e scatta l'intervento pubblico con un decreto che appunto è stato varato nella notte dal governo. Poi la strage di Berlino e il tunisino ancora in fuga, Amri, il terrorista, esultava in cella per i morti a Parigi. Come sicuramente saprete, come si è detto nei giorni scorsi, il tunisino è stato detenuto per circa 4 anni in Italia, è arrivato sulle sponde italiane dal Nord Africa ed è poi andato in Germania. Tra l'altro si è appreso che era anche seguito dal controspianaggio americano e dunque era una persona già attenzionata dalle forze dell'ordine. È chiaro che tutto questo non è stato sufficiente, bisognerà interrogarsi sul perché. La Repubblica banca e la resa del Monte Paschi, il tesoro tornerà padrone a Siena e il titolo di apertura fallisce l'aumento di capitale via al decreto, salvi gli obbligazionisti, Consob sospende i titoli. E poi così nelle celle italiane è nato un terrorista, la conversione alla Jihad dell'attentatore di Berlino. Andiamo avanti, la stampa, Mediaset Telecom si muove, il governo e dunque, insomma, l'economia e la finanza in primo piano, MPS fallisce l'aumento di capitale, il controllo diventa pubblico con il decreto varato dal governo, vengono tutelati i risparmiatori. Per frenare la scalata di Borroré alle TV, intanto sul fronte Vivandi Telecom, c'è un piano che prevede l'ingresso della cassa depositi nel gruppo telefonico, evitando la vendita a Orange. Dunque ci sono grandi movimenti per quanto riguarda le telecomunicazioni e la televisione. Poi una notizia che invece riguarda l'America, potenziamo gli arsenali, la strategia nucleare unisce Putin e Trump. Il neopresidente degli Stati Uniti in alcuni tweet ha rilanciato la sua idea di ammodernare l'arsenale nucleare degli Stati Uniti per essere al passo, dice, con quello di Putin e della Russia. E poi a centropagina, reclutatori e imam, la rete del killer di Berlino. Nel carcere in Sicilia minacciò un cristiano, ti taglio la testa e il DNA intanto conferma. La ragazza uccisa è purtroppo, aggiungo io, Fabrizia Di Lorenzo. Andiamo sul sole 24 ore. Sì al decreto banche, lo Stato salva a Monte dei Paschi di Siena. Il CDM ha approvato il piano da 20 miliardi sul credito via le regole per l'aumento precauzionale del Monte Padua nel Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ora serve il piano industriale. Oggi intanto titoli sospesi. Salvaguardia integrale sui bond subordinati retail. Gentiloni, il Premier, tutela ampia per i risparmiatori d'intesa con l'Unione Europea. E poi nel focus, nel taglio alto, al via i nuovi bilanci, ok alle istruzioni, nuovi principi contabili in questo focus del sole 24 ore. A centro pagina l'Italia, ok alla fase 2 del piano. Accordo tra i soci, finanziamento a breve ma riduzione dei costi e degli organici. Intanto è stato chiuso l'ultimo cantiere, come ricorda in questo richiamo il sole, l'ultimo cantiere della Salerno-Reggio Calabria. Gentiloni, appunto, vara la nuova autostrada che cambierà a nuova e si chiamerà Autostrada del Mediterraneo. Il Fatto Quotidiano. Indagato Lotti, esclusivo favoreggiamento e rivelazione di segreto. Lui non ne sa nulla, l'inchiesta su appalti truccati e soffiate alla Consip dunque coinvolge uno degli uomini più vicini all'ex primo ministro Matteo Renzi. Indagine dei PM di Napoli dopo quello del numero 1 dei Carabinieri del 7, rivelato ieri dal Fatto. Ecco i nomi del fedelissimo di Renzi e del generale Saltalamacchia. Poi scandali e processi, 120 milioni di tagli e eventi ridotti, così muore la RAI. E poi formigoni, 6 anni per ferie a sbafo e tangenti sanitarie. Ancora trattativa ai dieri di Ciampi, scalfaro morbido sul 41 bis. E poi a centropagina, Eni, mazzette per 50 milioni in Nigeria all'uomo di Descalzi. La Dio Rarischi è il documento dei PM sulla conclusione delle indagini sul giacimento OPL 245. Per la prima volta i PM parlano di mazzette ai manager italiani, tra questi Roberto Casula, braccio destro dell'amministratore delegato. Il messaggero. Salvataggio MPS entra lo Stato. Fallisce l'aumento di capitale di Siena. Nella notte il varo del decreto per la crisi delle banche, stanziati 20 miliardi, ma l'intervento del Tesoro sarà a tempo. Intanto parte la trattativa con Bruxelles. Dunque questo è il titolo scelto anche dal messaggero. E poi Berlino, riconosciuto il corpo di Fabrizia. Amri incendiò un CIE, un centro di accoglienza in Italia. Due complici per rubare il tir. Le prime rivelazioni dalle indagini. Poi raggi davanti ai PM dopo le feste. Lo staff sapeva delle microsfie. La convocazione forse già da indagata. Salta il concertone ed è bufera. Intanto c'è un sondaggio di SVG. Cala la fiducia dei romani nel sindaco. Ma PD e destra non intercettano i delusi. Andiamo adesso sul quotidiano Il Tempo. Sempre restando ai quotidiani romani. Se fai la spia, la regione ti paga. Nella legge di stabilità del Lazio una norma rivoluzionaria. Ai sindaci che scovano gli evasori il 60% del gettito recuperato. Andiamo avanti. Il giornale. Storica nazionalizzazione. Lo Stato salva il Monte Paschi. Ecco cosa succede ai risparmi. Scaduti i termini. La banca della sinistra eviterà il crack con i soldi pubblici. Andiamo sul libero. Moriremo di solidarietà. Date una casa ai rom. Quelli dell'ONU. Sono matti. Così il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Le Nazioni Unite ci intimano di smantellare i campi. E di mettere gli zingani in alloggi popolari. Nuova follia. Condannato il sindaco che rifiuta gli immigrati con malattie contagiose. E poi a centropagina la foto di Formigoni. Il Pio Formigoni rimedia sei anni per corruzione. Partito dal cielo e atterrato all'inferno. La verità. Salta il tappo. Un'intercettazione. Tira in ballo Renzi. Nell'indagine sul capo dei carabinieri. E dunque anche il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro rilancia. Quanto scritto anche dal Fatto Quotidiano. Clamorosi sviluppi nell'inchiesta napoletana rivelata dalla verità. Che coinvolge anche il padre dell'ex premier. Il comandante del set è accusato di favoreggiamento. Ma c'è un fascicolo per corruzione. I vertici del governo hanno favorito un imprenditore. Si chiede il giornale. Poi caccia al mostro di Berlino. Per quanto riguarda l'attentato che ha coinvolto la nostra Fabrizia Di Lorenzo. Il manifesto. Si cambia registro sul manifesto. In apertura, oltre ovviamente all'attentato e alla strage di Berlino con la sicurezza tedesca sotto accusa, c'è il lavoro. Vedete la fotografia con lo striscione di Almaviva senza risposta. Il titolo. Meno diritti e taglia un salario già misero. In cambio della speranza che il colosso dei consenter non vada in Romania. I delegati Almaviva di Napoli dicono sì. Quelli di Roma no. Firmando 1.666 licenziamenti. Il governo, complice dell'azienda, scarica la colpa sulle RSU. Questa è la posizione del manifesto. Andiamo a vedere adesso il mattino di Napoli. Napoli, gioie e dolori. Difesa sotto accusa. Questo per quanto riguarda il focus sulla partita degli azzurri. Due volte in vantaggio pareggiano a Firenze con un rigore in extremis firmato da Gabbiadini. E poi torniamo alla cronaca con il Monte dei Paschi. Anche qui in primo piano il salvataggio del governo. Titolo sospeso in borsa. Bisogna contrattare con Bruxelles per quanto riguarda questo intervento dello Stato. Fallito l'aumento di capitale con il fondo del Qatar che si è sfilato. Il governo diventa azionista a tempo determinato. Questo ha assicurato Pier Carlo Padoan, ministro delle finanze. E poi la Salerno Reggio Calabria dopo 52 anni non è più l'incompiuta. Nasce l'autostrada del Mediterraneo come avevamo anticipato in precedenza. E poi la cronaca, il giallo materazzo, il DNA lo inchioda, caccia aperta a Luca e a chi lo nasconde. Perquisiti in 15 tra parenti e amici. Avete visto le indagini si sono estese anche in Abruzzo a Roccaraso dove la famiglia ha delle proprietà immobiliari. L'unità. Lo Stato salva Monte dei Paschi e risparmiatori. Flop del mercato. Mancano i grandi investitori. Il tesoro diventa socio di maggioranza. Dopo 29 anni finiti i lavori di ammodernamento della Salerno Reggio Calabria. Questo è un po' il riassunto della giornata che propone l'unità. A Berlino la morte di Fabrizia, cittadina esemplare. Questo invece è il titolo che riguarda quanto accaduto a Berlino. Andiamo ancora avanti sul secolo XIX. Il quotidiano genovese apre con la finanza. Mediaset Telecom, il piano del governo, Monte dei Paschi, K.O. L'aumento di capitale. Dunque interviene lo Stato. Manovra intanto per bloccare Bollorè con la cassa depositi e prestiti. A centro pagina la Serie A. Chic non basta, la Samp va in bianco. Il Genova cade col Toro, ma Pellegri è da record esordio a 15 anni per il Genoano. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese. Berlusconi in trincea. Il francese Bollorè sfiora il 30% ed è un passo dall'Opa. L'offerta pubblica di acquisto. Monte dei Paschi non attira capitali. Più vicino l'ingresso del governo che ha avrato un decreto ad hoc. E poi, miracolo a Rignano, il ghetto risorge sempre. Politica assente, sostituita dai volontari. Nel taglio alto, Bari sequestrata droga per due tonnellate. Arrestati un trafficante barese e due albanesi. E poi, negli ospedali Regione Puglia, partono i tagli congelate le assunzioni. Il Gazzettino. Lo Stato salva Monte dei Paschi dal fallimento e il titolone di apertura. L'intervento potrebbe essere steso anche a BPV e Veneto Banca. Dunque, alla Popolare di Vicenza e a Veneto Banca. Il nodo della tutela dei soci è sempre aperto. A vuoto all'aumento di capitale da 5 miliardi. Vi ricordo, richiesto dalla BCE, dopo gli stress test che avevano dato esito negativo, il tesoro diventerà socio di maggioranza dell'istituto. E poi, anche il Gazzettino ricorda la sentenza per l'ex governatore della Regione Lombardia, tangenti 6 anni a Formigoni, confiscati 6,6 milioni e la villa. Poi, una notizia particolare che arriva da Padova. I carabinieri nella curia, Orge e Firmini nella canonica. Si dimette il prete a luci rosse. Adesso andiamo a vedere i principali quotidiani sportivi italiani. E dunque, apriamo la prima della Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura è dedicato alla super sfida di questo pomeriggio tra Juve e Milan per la Supercoppa italiana. Il calcio italiano gira Natale a Doha, la Coppa nel deserto. Il potere di Allegri contro le trappole di Montella. Il tridente Guendibala-Manzukic da una parte, Bacca, uomo da finali dall'altra. Che Supercoppa la partita sarà trasmessa da Rai 1 alle ore 17.30. Intanto, ieri sera si è giocata la Serie A, l'ultima giornata dell'anno. Zecco, Roma non molla. Bernard Oscar, ma il Napoli fa il 3-3 al 94esimo. Spalletti ribalta il Chievo e torna a meno 4 dalla vetta. Bernardeschi illumina la Fiorentina. Mertens e Gabbiadini decisivi per il pari. Poi, Sogno Champions, Inter terzo posto a meno 5. C'è l'accelerata per Lucas Leiva. E poi, Pellegri, 15 anni, debutto record. Belotti, gol Toro. Per lo sci, Campiglio-Show. Christoffersen batte Ischer, Gross e terzo. Andiamo sul Corriere dello Sport. Campionato di notte, Natale di Roma. Il Napoli si ferma e i Gianluorossi vanno a più 3. E poi, a soli 15 anni, debutto in Ape, legri record come Amadei e Cagliari-Show. Da 1-3 a 4-3, Pescara, gol pari a Palermo. Andiamo avanti su tutto sport. Juve, c'è un conto in sospeso. Per quanto riguarda la Supercoppa di questo pomeriggio contro il Milan. E poi Torino, Belotti torna il trascinatore. Intanto, nell'Inter, Mutigno in regia. Maxi vertice per impostare il mercato. Piace il portoghese, ma il Monaco deve accettare il prestito. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Però, prima andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per approfondire le notizie della nostra regione con un ampio spazio dedicato alla Serie A, la gara del Barbera fra Palermo e Pescara. Fra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo dunque alle notizie della nostra regione e ripartiamo da quanto accaduto a Berlino. Abruzzo in lutto, il sorriso di Fabrizia spento dall'odio e tra le vittime dell'attentato la conferma dopo l'esame del DNA. Poi la notte del dolore, Sulmona accende le fiaccole. In 2000 sfilano in silenzio il sindaco Anna Maria Casini. Ci raccogliamo in un abbraccio simbolico. Lutto cittadino il giorno dei funerali. Luminini lasciati in Piazza Tresca. Parte l'iniziativa per una notte di Natale senza luminare. Gli amici ricordano la giovane scomparsa. Era stata impegnata nel volontariato con la Croce Rossa e per il suo carattere esuberante veniva chiamata Frizzina. Vedete anche le foto dei momenti della fiaccolata di ieri sera. La meglio gioventù a colpi di tweet, il diario della 31enne, il gradimento della vita a Berlino e la nostalgia per la Valle Peligna e la giostra cavalleresca. Il terrore ti porta via un pezzo di famiglia, il ricordo del cugino Giulio, ciao sorella d'Europa, e i parenti abbassano le saracinesche del bar. Sempre su questo argomento il cordoglio dei politici. Mattarella, una vittima della violenza e del terrore. D'Alfonso il suo sorriso è la risposta più bella a chi ha la mente devastata dall'odio. Il premier Gentiloni, una cittadina esemplare, Renzi sottolinea i suoi ideali. Il ministro degli esteri Alfano si stringe la famiglia con grande affetto e condivide il loro immenso dolore. Nel frattempo le indagini, le impronte di Amit sul tir, gli inquirenti sono ormai convinti che l'autore della strage sia il tunisino. E qui vengono ricostruiti anche i luoghi dell'arrivo del tunisino in Italia e poi i suoi movimenti in Germania. Nel taglio basso, sui social, ciò Fabrizia La Terra ti sia lieve, centinaia di messaggi su Facebook per quanto riguarda questa tragedia veramente che ha un po' rovinato il Natale nella nostra regione. Andiamo a vedere anche cosa scrive il messaggero su quanto accaduto ieri sera. Fabrizia Strazio, alla luce delle fiaccole, strage di Berlino e il DNA conferma l'identità della Di Lorenzo, la giovane di Sulmona uccisa dal tir guidato dai terroristi. La famiglia chiede silenzio, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Ieri corteo spontaneo contro tutte le violenze e cordoglio nazionale. Lo abbiamo visto anche sul centro. D'Alfonso il suo sorriso nei nostri cuori è stato il ricordo del presidente della regione. Poi, sorella d'Europa, te l'abbraccio che non ho potuto darti. Il tweet del cugino in coda ai messaggi della ragazza che scriveva il pericolo si batte con l'integrazione. Cambiando argomento, addio botteghe, ha perso i 12 mila posti di lavoro. Questa è la notizia che riguarda l'artigianato e il mondo delle imprese. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire adesso la pagina Abruzzo per vedere le altre notizie. Anche qui troviamo i problemi legati alle imprese, all'artigianato. rilanciare il settore, patto imprese sindacati, approvato un documento con 11 richieste per il settore. La regione ha fatto poco, guarda troppo alle medie e alle grandi aziende. Vedete la crisi dell'artigianato in Abruzzo, riassunta in questo specchietto illustrativo, 12 mila occupati in meno, meno 4.503 imprese, il saldo tra quelle nate e quelle chiuse tra il periodo 2010-2015. Nel taglio basso, il Consiglio regionale bilancio, presentati 700 emendamenti e scontri in commissione sulle mille proroghe, il testo arriverà in aula a martedì 27. E poi vacanze, neve, pisti aperte a Ovindoli e Roccaraso e per quanto riguarda anche il turismo montano. Andiamo invece adesso sulla pagina di Pescara. Il flop degli affari, troppe multe, affitti alti, commercio in ginocchio, in centro città, i negozianti, ormai la gente aspetta i saldi per spendere. E poi lo shopping di Natale tra degrado e sporcizia, i commercianti sollecitano pulizia, decoro delle strade, marcia a piedi nuovi e polemica sulla situazione del centro, cartace piccioni e movida rumorosa. I furti sul lungomare, preso il ladro degli stabilimenti balneari, la polizia ha fermato il 19enne che era già stato sorpreso all'Ido Beach, ha rubato anche al Saturno e al Quattrovele, il giovane ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Poi agenzia delle entrate, locali Freddin, via Rio Sparto, e poi Montesilvano, rubati i computer della scuola della infanzia. Il mare che ci aspetta la prossima estate, nel 2017, stoppa i divieti di bagnazione, il piano di comune H per alleggerire il carico del depuratore e la gestione dell'impianto, affidata a una ditta di assemini. Festival del videomapping in Piazza Salotto, tornano da questa sera le spettacolari proiezioni su Palazzo Arlecchino, arricchite da un contest. Andiamo ancora avanti, Nido, quanti neonati ma pochi infermieri per cure e assistenza. Il sindacato Nursind denuncia carenza di organico e rischi dopo la chiusura dei punti nascita di penne e di popoli. Nel taglio basso, nei reparti pediatrici, a Dricesta, festa con i carabinieri, i doni dei militari e i bimbi ricoverati, con certo benefico in tribunale. Andiamo ancora sulla pagina di Pescara, anche vecchie scarpe diventano addobbi per l'arbero di Natale, grazie ai ragazzi del liceo artistico. Sulla pagina di Montesilvano, furti nelle case, operazioni in via Vestina, bloccati altre quattro ladri di appartamenti. Una banda proveniente dal napoletano intercettata dai carabinieri su una Fiat Panda a carica di arnesi per lo scasso. I malviventi sono stati denunciati dai militari che hanno poi provveduto a firmare il foglio di via per tutti i componenti del gruppo. Indagini aperte anche su tre fuggitivi di martedì. Poi lavori utili, grazie all'aiuto dei detenuti, rinnovata per il 2017, la convenzione tra comune di Montesilvano e casa circondariale di Pescara. Poi il premio Carletti, ciclista over 65, targa dell'amministrazione Maragno, il vincitore del mundialito di Morro d'Oro. Nell'area metropolitana, via Prati riqualificata, oggi ci sarà l'apertura, una serata d'arte sullo stesso colle delle apparizioni. 28 anni dopo il miracolo mancato della Madonna, il borgo di Montesilvano propone un evento nello spazio BR1. Nel taglio basso, sale la febbre per Guerre Stellari, in sale i personaggi della saga di Lucas con il nuovo film Rogue One. Ancora, Stroili Oro chiude, licenza tre persone, sciopero di due giorni per la gioielleria del mall, dice Pagatti, che abbassa le saracinesche, la CISL proclama l'astenzione dal lavoro per oggi e domani. Poi, Giro d'Italia, 1,3 milioni per rifare le strade, il 14 di maggio la caravana rosa passerà da Francavilla a Manopello per fare tappa al blockhouse. A Francavilla, botti vietati fino all'epifania, questa è l'ordinanza firmata dal sindaco Antonio Luciani. Andiamo sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, Penne in bilico i quattro addetti dell'outlet Brioni. La CISL chiede certezze sul futuro dei lavoratori in servizio nel negozio cittadino che chiuderà a fine gennaio. L'azienda si era impegnata a ricollocarli tutti e vedremo se accadrà. Poi, Popoli, scuole pronti 150 mila euro per i lavori antisismici al nido. Adesso andiamo sul messaggero, andiamo a vedere anche le altre notizie per quanto riguarda Pescara. Tre sindaci firmano il divieto di botti, multe fino a 500 euro, il titolo di apertura della pagina pescarese. Festa in sicurezza Pescara, Montesilvano e Francavilla. Dalle 18, Piazza Salotto si illumina con il videomapping. Poi città blindata, guardia alta dopo l'attentato a Berlino, sorveglianza rafforzata per il Capodanno che vedrà Inegrita in piazza. Più uomini in divisa in borghese nei siti sensibili attivati contro gli ad hoc in zone affollate. Andiamo ancora avanti con il giornale e andiamo a vedere le altre notizie dalle altre province. L'Aquila furto nella teca di Celestino V sotto inchiesta un sacerdote. Questa è la notizia di apertura. La procura ha inviato un avviso di garanzia al giovane prete che vive da anni in città. Il vescovo Petrocchi segue la vicenda. Il religioso avrebbe rubato la medaglia che era stata donata da Papa Paolo VI al suo posto una copia priva di valore e briz durante la ricognizione delle spoglie. Intanto il Duomo via libera alla ricostruzione terminata l'istruttura sul tavolo tecnico. San Gregorio gli inquilini ERP non andiamo ai progetti case. Il comitato residenti ricorre al prefetto contro l'ordinanza del sindaco a seguito del sisma del 30 di ottobre. Torna a riaccendersi la fontana luminosa a faro della rinascita inaugurato il monumento restaurato con l'acqua tornata a scorrere. Poi il centro turistico del Gran Sasso a finanziamento per il salvataggio. Andiamo avanti la pagina di Avezzano Sulmona in coma dopo le botte il padre aiutatemi ad assistere domenico il ragazzo si è improvvisamente aggravato e rischia la vita il papà non posso andare tutti i giorni in clinica a Chieti dopo sei mesi nessun colpevole ho il diritto di sapere a che punto sono le indagini dice il genitore spaccata ai danni di un'ottica in corso video a Sulmona e poi omicidio Materazzo arrestato il fratello ma Luca è scomparso abbiamo già visto in precedenza questa notizia le indagini sul delitto di Napoli si estendono anche a Roccaraso andiamo sulla pagina di Chieti adesso il bando per la ristorazione ASL finisce sul tavolo di Cantone questa l'apertura una delegazione di lavoratori ricevuta ieri mattina dal prefetto Corona non si esclude un tavolo di confronto iniziativa annunciata ieri dai sindacati nel mirino il ribasso di gara e il comando lo sciopero contro i netti tagli dell'orario le società ricorrono alla precettazione di massa negozi vuoti e pochi addobbi dimezzate le spese per i regali anche a Chieti si sente la crisi del commercio la presidente di Confcommercio Marisa Tiberio lancia l'allarme non è un problema di luminari e poi trafitto dal cancello di casa in ospedale con l'elicottero questo è l'incidente capitato ad un albanese di 70 anni residente a Vacri l'università nel taglio basso più fondi per la ricerca la patata bollente e l'allineamento dei dirigenti il rettore rispetteremo lo statuto così dice di Ilio la pagina di Lancianova Stortona tribunali a rischio arrivano i super big prevista la presenza di Lenini e della Chiavaroli per fare il punto si festeggia oggi con la consegna di 25 toghe d'oro anche alla memoria appuntamento che giunge con tristi echi della chiusura del tribunale di Lanciano unitamente ad Avezzano sul Mone Vasto sempre che il governo non decida la proroga della scadenza del 2018 oggi è la festa per l'avvocatura ma insomma anche un appuntamento per riflettere sul futuro e poi tradizione oggi scocca la squilla del Natale questa è una delle tradizioni più antiche a Lanciano è la manifestazione più antica amata dalla popolazione che risale pensate al 1589 scambio dei doni per la riconciliazione a Vasto investimento fatale guerra sui social per il difensore dell'automobilista che travolse e uccise una donna in sella su scooter va scagionato ma scatena una valanga di reazioni nel taglio basso sempre a Vasto ex giunta comunale a processo sotto accusa l'appalto del cartellone manifestazioni estive dell'anno 2013 sotto accusa anche un dirigente municipale ed il titolare dell'agenzia valore 170 mila euro poi Ortona morte mamma e figlia in aula le super testimoni toccherà a loro raccontare cosa videro il 31 maggio del 2014 in autostrada fra Ortona e Francavilla ovvero raccontare la dinamica dell'incidente in cui persero la vita Emanuela Morosini che aveva 39 anni e la figlia Vittoria che ne aveva 10 la decisione di convocare le due testimoni oculari è stata presa ieri dal GIP Luca De Ninis per consentire l'acquisizione di una consulenza di parte prodotta dalla difesa di autostrade per l'Italia Adesso andiamo sulla città sul quotidiano della provincia di Teramo per vedere le altre notizie dal Teramano Scandalo acqua ecco le prove la prova del 9 si torna sull'incidente nei laboratori del Gran Sasso il problema di clorometano è finito nei pozzetti dell'acqua destinata al ruzzo si è saputo solo tre mesi e mezzo dopo l'incidente risultati delle analisi eseguite dai laboratori LNGS a fine agosto pubblicati solamente il 20 di dicembre come attesta la pagina istituzionale per quanto riportata dal giornale nel taglio basso la politica sinistra e le elezioni provinciali sono una farsa rifondazione sinistra italiana e comunisti italiani segnano la distanza dal PD e annunciano la loro astensione dal voto divisi dalla funivia restiamo sempre i problemi della città di Teramo anche la città si spacca dopo lo stop al progetto confartigianato sta correttore d'amico il PD cerca di dirottare i fondi alla cona i comunisti sono per il no con Brucchi posizione difficile il sindaco ha ottenuto il no compatto della sua maggioranza ma ha rinunciato ad un progetto da 10 milioni di euro che potrebbe essere realizzato altrove la differenziata cresce ancora l'azienda chiede massima attenzione al calendario della raccolta durante le feste il bando in attesa del tar il comune va avanti con la contrattazione con l'unica ditta interessata il ciclat andiamo avanti le nostre palazzine non le sgomberate Natale difficile a collaterrato per i problemi legati al terremoto dove si temono le famigerate ordinanze per le palazzine popolari erano in due a guidare la banda dei bulli i leader decidevano dove e come quando agire contro la ragazzina i carabinieri sequestrano tutti i cellulari del branco sono otto i denunciati due ragazzi sono agli arresti domiciliari altri sei sono indagati per le violenze contro la compagna di scuola e poi i procuratori del popolo la lezione da unitè terminato con successo il corso di formazione in Italia per 21 magistrati cinesi del distretto di Hubei andiamo ancora avanti in provincia finisce in carcere per la violenza su una settantenne Campli 31enne portato a Castronio dai carabinieri per scontare la condanna a 5 anni la violenza il ragazzo nel marzo di due anni fa si era introdotto nella casa dell'anziana e dopo aver rubato oggetti in oro e denaro l'avrebbe molestata sessualmente la condanna nel mese di gennaio è stato processato a Teramo e ritenuto colpevole dei reati contestati andiamo a vedere qualche altra notizia dalla provincia in particolare ricollegandoci ai temi della funivia che doveva collegare il campus al centro città a Teramo tutti d'accordo per la funivia del Cerrano dopo il no di Teramo cresce l'entusiasmo tra cittadini e politici per il collegamento con il paese che potrebbe appunto collegare Silvi Marina a Silvi Alta rilancio anche l'ex sindaco Valle Scura aveva parlato di negozi supermercati e locali di svago proprio sotto le mura del paese con partecipazione l'amministrazione sarebbe disposta anche a fare la sua parte per realizzare l'opera adesso apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport e ovviamente andiamo a parlare di Serie A e della partita di ieri sera del Pescara finita 1-1 al Renzo Barbera di Palermo il segnale di vita titola il centro Pescara un punto per sperare quanti rimpianti nel finale gol annullato ingiustamente a Fornasier pari di Biraghi su rigore Posavec salva su Memushai questo il risultato dello spareggio salvezza la partita la andiamo a vedere con il servizio di Paolo Renzetti con un gran finale di gara il Pescara pareggio per 1-1 alla Renzo Barbera di Palermo una gara incredibile sfiorando al 49esimo la vittoria negata ai bianca-azzurri da una super parata di Posavec grida vendetta anche il gol annullato a Fornasier quasi allo scadere gol poi dalle immagini risultato regolare gli abruzziesi che al 90esimo sembravano quasi in B hanno invece avuto il merito di raddrizzare proprio in extremis una gara che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo campionato ora il mercato con la possibilità di migliorare l'organico non ci sarà una rivoluzione ma acquisti sicuramente mirati davanti a Zeman seduto in tribuna Palermo e Pescara si affrontano davanti a 25.000 spettatori i rosa-nero si affidano a centrocampo all'esperienza di Gazi e in avanti al fiuto di Nestorowski con Diamanti più indietro nelle Pescara non ci sono Baybec, Mitriza, Pepe, Berre e Aquilani già ai saluti od opta per un particolare 3-5-2 con Zampano e Biraghi più avanti e una difesa a tre a sorpresa uno dei tre ex rosa-nero Gaston Bruggemann va in panchina nel settore ospiti presenti 50 coraggiosi tifosi del Pescara l'avvio è equilibrato con il Pescara più manovriero sugli sviluppi del corner e poi Memushai ad incornare di testa alto di pochissimo i siciliani hanno difficoltà a trovare spazi la squadra di Corini più a piano inizia ad avanzare il proprio baricentro in avanti trovando nella prima vera occasione al trentatresimo il gol del vantaggio con una prudezza agevolata da una ingenuità della difesa pescarese il gol del giocatore rosa-nero Quaisson fa esplodere il Barbera che diventa una bolgia con Oddo che però sprona i suoi a non mollare si arriva però al termine del primo tempo senza altre emozioni e con il rosa-nero in avanti nella ripresa si riprende con gli stessi 22 di inizio gara e con il Pescara chiamato a cercare di recuperare il risultato i biancazzuli fanno un po' di possesso palla ma al ventesimo e Iaialo a mancare di poco di testa il gol del 2-0 che avrebbe ammazzato la gara Oddo a metà ripresa manda in campo Brukban al posto di Alessandro Bruno l'inerzia della partita però non cambia con i minuti che scorrono veloci con le possibilità di pareggio del Pescara che sembrano assottigliarsi anche perché restano una chimera le conclusioni verso la porta di Posavec Oddo alla mezz'ora gioca anche la carta cristante che prende il posto di Campagnaro il finale di gara vede grandi emozioni al 35esimo c'è un'opportunità per Pettinari che allarga troppo il compasso mettendo a lato al 44esimo sugli sviluppi di un angolo arriva il pareggio di Fornasier che sembra in posizione regolare ma l'assistente alza la bandierina e Massa annulla fra le vibranti proteste abruzzesi ma questa volta il finale almeno sorride al Delfino visto che al 47esimo Gonzales scambetta in area Caprari Massa indica il dischetto senza esitazioni con Birachi che si prende la responsabilità di cacciare il penalty dagli 11 metri spiazzando il portiere palermitano i giocatori del Pescara dopo il gol corrono ad abbracciare il tecnico Massimo Oddo mentre poco dopo al 49esimo è ancora il portiere siciliano a salvare porta risultato con una parata miracolosa su tiro violentissimo di Ledyan Memushai il Pescara manca la vittoria ma evita un altro KO restando così aggrappato alle speranze di salvezza e allora proseguiamo con le reazioni nel dopogara Sebastiani meritavamo i tre punti rinuncio alle vacanze per il mercato così il presidente che ha dato sfogo a tutta la sua gioia nel fine partita Corini la delusione è tanta prima del penalty la gara sembrava finita queste le parole dell'allenatore del Palermo che tra poco andremo ad ascoltare insieme al tecnico del Pescara Massimo Oddo Oddo in campo con lo spirito giusto potevamo vincere il tecnico sono contento i ragazzi hanno dato tutto dopo il gol tutta la squadra è corsa ad abbracciarlo andiamo a vedere anche le pagelle dei Biancazzurri Memushai stancabile Campagnaro fa fatica Bruno è diligente Benali non convince sufficienza un po' distribuite su tutta la squadra Biraghi è il migliore con un 6 e mezzo 5 e mezzo per Pettinari Benali e 5 per Campagnaro questi dunque i voti secondo il quotidiano il centro Biraghi il mio primo rigore pesava tantissimo il difensore ex Catania difficile tirare sotto la curva del Palermo per la salvezza ci siamo anche noi Pescara dunque con questo risultato resta in corsa andiamo ad ascoltare allora i due allenatori Oddo e Corini domande buonasera senta è un Natale quantomeno un po' più sereno dopo questo pareggio insomma venivate da un momento brutto il ritiro eccetera eccetera insomma è un pareggio che vi ridà speranza non abbiamo mai perso io quantomeno non ho mai perso i ragazzi non li hanno mai persi i momenti difficili sono all'ordine del giorno nel calcio e nessuno ci può impedire di inseguire il nostro obiettivo nella stampa nei tifosi nessuno noi crediamo in quello che facciamo sbagliamo commettiamo errori ma questo fa parte della vita del calcio quindi il ritiro è stato per fare gruppo per stare insieme per lavorare meglio sugli errori fatti nel calcio si fa questo quando quando commetti degli errori l'unica cosa da fare è lavorare sul campo per cercare di eliminarli e la seconda cosa da fare è sempre dare il massimo noi l'abbiamo sempre fatto l'abbiamo sempre dato a volte abbiamo spesso abbiamo anzi quasi sempre abbiamo perso abbiamo fatto qualche punto ma dando sempre il massimo e quindi quando tu dai il massimo sei sereno noi siamo sempre stati sereni poi è ovvio che i risultati negativi comportano un abbattimento dell'autostima e quant'altro ma l'unica maniera per andare avanti è quella di creare nel lavoro in cui si fa e cercare di raggiungere i propri obiettivi noi ce l'abbiamo ben chiaro in mente e andiamo avanti per la nostra strada io sono molto contento oggi in generale per una sola cosa che i ragazzi hanno dato il 110% io gli avevo chiesto questo quando tu sai di dare il massimo un allenatore è contento poi noi siamo consci nei nostri limiti nei nostri pregi a me interessa che i ragazzi gli diano tutto come io cerco di dare tutto settimanalmente sbagliando molte volte sbagliando ma purtroppo l'errore nel calcio è l'ordine del giorno la perfezione non esiste si raggiungono gli obiettivi cercando di sbagliare il meglio possibile da ragazzi ho visto veramente grande energia voglia di uscire da questo momento sicuramente Posavec ha fatto una parata importante sarebbe stato troppo oggettivamente oggi perdere una partita che ci vedeva a due minuti dalla fine vincerla però questo è il calcio ed è stato veramente bravo a farci portare a casa almeno a questo punto e come dici tu in un momento e nei mesi dove purtroppo tante volte si è andati a valutare gli aspetti negativi trovare anche dei punti di forza che possono poi essere migliorati è fondamentale questo è stato il mio lavoro la squadra ha fatto quello che ho chiesto nello sviluppo del sistema di gioco che abbiamo fatto il primo tempo nei piccoli cambiamenti accorgimenti che abbiamo fatto a partita in corso ho chiesto anche da questo punto di vista disponibilità da parte loro perché a volte per un allenatore è difficile comunicare e avere la possibilità di farlo attraverso qualche giocatore di esperienza che abbia la consapevolezza che quando gli dai un'indicazione abbia la capacità e la forza di trasmetterla ai compagni e questo secondo me è fondamentale da questo punto di vista la Lega Pro Lumezzane la miglior difesa del torneo i Lombardi siglarono la prima sconfitta in campionato del Terramo e i Biancorossi ci riprovano al Bonolis andiamo a vedere anche il messaggero operazione di monte il Terramo ci prova i Biancorossi inaugurano il girone di ritorno ospitando il Lumezzane devono vincere per risalire la classifica ovviamente qui viene citato l'Albino Leffe ma c'è un errore e poi l'eccellenza il Francavilla cade in casa Martinsicuro si avvicina per quanto riguarda i dilettanti andiamo anzi torniamo sul quotidiano il centro che propone un'ampia pagina dedicata ai dilettanti paterno tradito dal dischetto eccellenza i marsicani falliscono un rigore di ruocco il Martinsicuro resta secondo e poi sorpresa Francavilla K.O. il vantaggio ora ha due punti la promozione con l'ottava sinfonia al Giulianova non si ferma più al Fadini cade anche il notaresco e poi il girone B il Delfino resiste e strappa il pari al Chieti Torre Alex andiamo ancora avanti il calcio dei dilettanti con la giustizia sportiva la corte d'appello penne stangata per l'illecito tre anni di squalifica di Simone Bucci e di Bartolomeo due punti di penalizzazione ai vestini i giudici dell'Aquila accolgono la tesi della procura federale sulla partita di promozione del primo maggio scorso a Fara San Martino decisivi i messaggi Whatsapp tra i giocatori ricorderete quel gol con la difesa completamente ferma gol che fece anche il giro sulle testate nazionali basket di A2 Roseto e Chieti a caccia del colpo in trasferta gli Sharks a Piacenza per coltivare le speranze di Coppa e la progera Ravenna con Falluc intanto il Serie B recupero Campi strapazza Senigallia e si riprende il secondo posto partita terminata 79 a 68 questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa grazie per averci seguito anche questa mattina il TG6 torna alle 14 e alle 19 grazie ancora e vi auguro una buona giornata grazie a tutti